e ciao a tutti amici sono il vostro card extra oggi c'è Roma Lazio e sono pronto qua insieme a Brato e Sodin per le nostre reazioni e ragazzi spolliciate per altri video di questo genere ma adesso sta iniziando la partita DAI LHE Roma Oggi E' partita E' partita Tutto pronto si inizia DAI LHE ZECHINO DAI LHE LA DAI 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 SI GRADA LA DAI 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 TIRO LA MIGA OH RIGORE 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 C'ha dato PURE RIGORE E' PURE RIGORE MAI CAZZO RIGORE RIGORE RAI CAZZO DAI DAI FUORI ARIA Si sa se era dentro l'aria o fuori però eh Forse è fuori aria Porco Dici se levono Secondo me è fuori aria però vabbè E' buono così vabbè Fa tutto bene Eccolo ZE GOOOOL E' VAI RIGORE 1 a 0 cazzo ZE GOOOOL RIGORE PARIO Ma com'è? RIGORE PARIO STI CHEZZI PORCA PUTTANA AIA PORCO GIUDA PORCO 2 CHE TRAVERSA BUONO 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 MAZZO RAVA BUONO Bravi 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 Tira tira la stecca uccidi tutti Tira 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 la tira Oddio BUONO 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 MYS Ho problemi con la tv ragazzi, se spegni a caso. Comunque stiamo vincendo, stiamo dominando la partita Cerchiamo di fare 2-0 subito Oddio Gero è partito, è partito, vai Gervinio Vattene, vattene, vattene Oh, ma stoppala, stoppala Che cazzo fai? Non ci posso credere, non ci posso credere Ma che tiro Mi sei maniato Dai ripartite su Madonna che bella Fai, 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 fai Cervinio, Cervinio incredibile Cervinio, Cervinio Incredibile Fai Cervinio, Cervinio Dai Cervinio 1, 2, a 0 Cervinio Cervinio Dai cazzo Cazzo di animale Cazzo di animale Oh, tira, tira, tira Bello No, Iago Si No 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 Cazzo, l'avevo vista dentro No, eh, no, no No No, 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 no Close, si è cagato un gol, bene Bravo, Close Che cazzo si è mangiato Sono cose che capitano Sono cose che capitano Sono Close che capitano Bravissimo, Close Dai, abbiamo vinto Dai che abbiamo vinto Finita È finita Sì Sì Ma il culo E andiamo E andiamo E andiamo 2, a 0 Abbiamo dominato Abbiamo fatto Guarda le mani Guarda le braccia Ti dico tutto 2, 2, a 0 Bene ragazzi Queste erano le relazioni A Roma-Lazio Spondiciate a chi non posso Per prossimi video di questo genere Ringrazio anche Brazzo E Sodin Povero Mike Shosha Ciao, ciao Mike Noi ci vediamo prestissimo Con un nuovo video Quindi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto 2, a 0 Ciao, ciao Lazio Noi ci vediamo prestissimo In un nuovo video Eeeh Ci vi Ciao Lazio Ciao, 2, a 0 Dai che Ciao Io odio Beaster Non è possibile No, ma sono belle belle Bellissime proprio Come un calcio nelle palle